Accesso più semplice per il super ecobonus del 110% con la conversione in legge del DL agosto. Anche i condomini con difformità catastali saranno inclusi. Giampiero Scarpati. Si abbassa il quorum per le delibere condominiali sulla super bonus. In assemblea basterà il voto favorevole di un terzo dei millesimi di proprietà dell'edificio. Un voto su tre quindi basterà non solo per dare il via libera ai lavori di ristrutturazione, ma anche per chiedere lo sconto in fattura o per cedere il credito. È una delle novità del decreto agosto votato ieri dalla Camera, che ora passa in Senato, che riguardano lo sconto fiscale del 110% sui lavori di efficientamento energetico. Altra novità importante, le difformità urbanistiche e catastali dei singoli appartamenti non pregiudicano la possibilità di ottenere il bonus sui lavori comuni condominali. Per le villette a schiera viene poi sciolto un nodo che aveva sollevato tanti dubbi interpretativi. Per accesso autonomo si intende il cancello o il portone dei singoli edifici, anche se vi si accede da un vialetto o da aree esterne e comuni. Pubblicati in gazzetta ufficiale i decreti applicativi del Ministero dello Sviluppo Economico stabiliscono i requisiti per accedere alla leggevolazione, la modulistica e le modalità di invio delle attestazioni tecniche.